Vincono Cavese e Nardo in testa risponde presente anche il Brindisi. 2-1 esterno alla Putiolana e quinta vittoria consecutiva, la settima negli ultimi otto turni. Le reti di Sirri e Dammacco nel primo tempo tengono in ballo i biancazzurri nella lotta alla promozione diretta. Vano il tentativo dei campani di raddrizzare il punteggio e concedersi una nuova chance di salvezza. 4-2-3-1 per Danucci orfano di Cancelli in mediana. Gioca dunque Maltese accanto a Malaccari. Cambia la punta rispetto alla sfida contro il Fasano. C'è Diuffe non Santoro con Dammacco o Pola ad Anna alle sue spalle. 4-3-3 per la Putiolana di Salvatule Marra. Velle età offensive affidate al tridente Rabbeni Aber con K. Avvio sprint del Brindisi. Sirri sfrutta l'uscita difettosa di Pirone per despositare l'1-0. Gioia subito smorzata dalla bandierina alta del secondo assistente. Duello che si ripete al dodicesimo. Pirone ancora incerto nell'uscita. Sirri con l'anzampata porta in vantaggio i pugliesi. Questa volta è tutto buono e il Brindisi è in vantaggio. Stradipanti gli ospiti sulla catena di destra. Diuffe da terra riesce a servire Dammacco. Destro a fil di palo fuori di nulla. Dammacco riceve nuovamente palla dalla destra e calcia a botta sicura ma c'entra il compagno Diuff. Sfera alta. Il raddoppio dell'aria è il numero 10 Brindisino al piede caldo. Qui raccoglie una respinta centrale di Pirone e con una bella vola gonfia la rete. 2-0. Al ventiduesimo la gara sembrerebbe in archivio ma il Brindisi stacca leggermente la spina e la putiola ne prende coraggio. Abercon si avvita ma tentativo che si spegne alla sinistra di Vismara. Altro corner ma sorte differente al 39esimo. Avella sfrutta un rimpallo per agganciare e fare 1-2 col Mancino. Il Brindisi non corre ulteriori rischi nella ripresa ma il demerito di tenere la partita in bilico. Danna scippa il pallone ma Diuffe in fuga scivola al momento della battuta a rete. Decide di mettersi in proprio Danna. Aggancio col Mancino e destro al volo dalla tre quarti. Alto di poco. Non nonostante le forze fresche fatica a creare pericoli dalle parti di Vismara la putiolana. L'unica reale chance è questa sventola dal limite di Dancora abbondantemente alta. Vince il Brindisi. Il 16 aprile al Fanuzzi arriva il Molfetta. Sfida che farà da apripista all'impegni della verità contro Nagdo e Cavese. Quasi spacciata la putiolana al rientro farà visita al Bagletta.